Per creare un report automatico, passare alla scheda Report automatici. Cliccare su Nuovo report. Potete nominare il report cliccando con il tasto destro su Report e con il tasto sinistro su Rinomina. Confermare con invio. Qui potete selezionare la zona di misura. In Impostazioni potete effettuare ulteriori configurazioni, per esempio mostrare o nascondere singoli canali. In quest'area potete definire il contenuto del report e, se necessario, aggiungere un logo e una riga della firma. Qui definite il ciclo temporale del report. Qui potete impostare le opzioni di invio. Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccate su Applica impostazioni. Facendo clic con il tasto sinistro su Crea report, potete ora creare un report temporaneo. Facendo formare il Mondiale del Museo Horo. Facendo cliccate suichtet le informazioni, possesso avere ulteriori riesgol Bundeshe Ollands destaci suchu color online. E' la forma tutta v Installation